benvenuti alla resegna stampa di oggi 5 dicembre 2020 siete su fano tv canale 17 in tutta la regione Marche sul digitale terrestre e anche sui dispositivi mobili come i cellulari buongiorno a tutti ben ritrovati allora iniziamo subito dal santo di oggi il santo è san saba archimandrita uno tra i tanti santi che la chiesa ricorda il sole sorgerà alle 7 28 e tramonterà alle 16 31 adesso vediamo il tempo che cosa ci attende per la giornata di oggi sabato 5 secondo la protezione civile delle Marche con il suo bollettino che trovate sul sito internet avremo precipitazioni sparse nelle zone interne più abbondanti a ridosso dei rilievi localmente anche a carattere di rovescio fenomeni locali in altre zone quota neve intorno ai 1800 1900 metri venti moderati da sud est lungo la costa questa mattina abbiamo anche un vento piuttosto caldo insomma sono 13 14 gradi questa mattina insomma sulla costa perlomeno domani domenica 6 vedete ancora c'è la neve neve mista pioggia con precipitazioni sparse limite delle nevicate inizialmente intorno ai 1700 metri ma in graduale abbassamento fino ai 1200 1300 nel corso del pomeriggio attenzione ancora i venti moderati dai quadranti meridionali ma in rotazione da nord ovest nel corso della mattinata poi porteranno appunto abbassamento delle temperature lunedì 7 la settimana inizierà con cielo perturbato con possibilità di pioggia nel pomeriggio piogge sparse a carattere di isolato altrove nevicate al di sopra dei 1300 metri la parte centrale della prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni di variabilità con alternanza tra periodi asciutti cosiddetti asciutti e periodi piovosi andiamo a leggere subito i giornali carlino questa è la pagina di pesaro i ristoranti apparecchiano preparativi per il pranzo della domenica ma sarà un pessimo dicembre dicono i ristoratori pesaresi intanto a proposito di ristoratori carriera ormai lo conosciamo non c'è bisogno di dire chi è umberto carriere ristoratore che ha tenuto aperto il suo i suoi ristoranti e che sono stati poi chiusi multati e quant'altro carriera ieri si è uscito con un post dicendo esattamente questo allora annuncia che domani aprirà il suo sesto ristorante lo chic di fano ma che invece di pagare le tasse dice spiega utilizzerò quei soldi che non intendo versare allo stato per sfamare mille persone ovviamente questo lo fa come se fosse una sorta di caritas locale e allora lui dice da lunedì 7 dicembre a domenica 10 gennaio offrirò il pranzo ogni giorno a 30 persone in stato di necessità che si presenteranno al ristorante la macelleria fungendo così da caritas locale parole di umberto carriera che ha collezionato già quattro multe cinque sospensioni ma le sue parole fanno arrabbiare il mondo della solidarietà pesarese mena duro andrea boccanera della gulliver che dice la solidarietà è una questione seria non si può ridurre a una buffonata pubblicitaria è uno sfregio per l'impegno dei volontari questa prima in prima pagina del resto del carriere entriamo dentro andiamo a vedere anzi la pagina del corriere adriatico confermato domani le marche saranno gialle resta l'ordinanza che vieta cibo e bevante per strada acquaroli dice il virus circola niente assembramenti spostamenti tra comuni di nuovo permessi ristoranti e bar aperti fino alle 18 l'indice rt scende a 0,74 poi i fronti caldi a centro pagina il commercio baristi natale di rabbia solo con l'asporto non si campa proprio la scuola didattica in presenza il preside rossini dice mi pare un azzardo e sulla sanità il dirigente valentini capalbo dice mi faccia tornare al mio lavoro cioè il dirigente valentini che scrive alla capalbo alla quale dice mi faccia tornare al lavoro schianto coinvolte tre tre veicoli la dura protesta dei residenti siamo a pesaro sulla strada montefeltro un incidente successo vicino all'ex pica grave un motociclista questo è il carlino di ancona invece perché questa mattina il carlino di ancona perché la fotonotizia riguarda la strage di corinaldo chiesto il giudizio per i tecnici e per i manager il titolo trappola mortale le pagine interne cominciamo a vedere il carlino con questa intervista di pierfrancesco curze al governatore francesco acquaroli che lo ricordiamo è ancora isolato a casa perché la moglie risultata positiva dice io sono dico non sto troppo bene nel senso che sono qui costretto a casa isolato spero di poter uscire la prossima settimana soddisfatto del ritorno in fascia gialla risponde acquaroli certo ma gli effetti delle tre settimane passate in zona arancione sono stati devastanti per migliaia di attività per quanto riguarda la curva dei contagi delle marche era in costante rallentamento quando eravamo già in fascia gialla gli ultimi rilievi parlavano di un rt allo 0,74 si poteva assolutamente evitare quell'ordinanza che ha prodotto la catastrofe per tanti industriali commercianti artigiani insomma questo fatto di andare in zona arancione al governatore non va proprio giù intanto su bar e ristoranti palestre quant'altro lui dice si potevano tranquillamente lasciare aperti avrei gradito anche maggior dialogo con le istituzioni quindi con Roma invece che basarci su un algoritmo non si possono invece paragonare dice ancora acquaroli a proposito degli spostamenti tra un comune e l'altro tra una regione e l'altra non si possono paragonare spostamenti tra piccoli comuni ad un esodo che va scongiurato e sentite come risponde alla domanda finale del collega non tutti l'estate scorsa si sono comportati con razzocinio operatori commerciali e cittadini è d'accordo la risposta di acquaroli allora per pochi disonesti dovrebbero pagare tutti gli altri il governo pensi a veri e propri ristori poi dal Corriere Marche da domani in giallo resta l'ordinanza che vieta cibo e bevande in strada il governatore Coroli dice il virus circola ancora attenzione agli assembramenti di nuovo permessi gli spostamenti tra comuni ristoranti e bar aperti fino alle ore 18 mentre l'indice RT scende come abbiamo visto questo importante a 0,74 ma ancora ci sono troppi ricoveri il rischio resta moderato i dati dell'ultimo monitoraggio confermano il sovraccarico sugli ospedali mezza Italia però torna gialla si allenta la stretta ma conte non arretra su Natale Capodanno guardate la mappa dell'Italia queste regioni alla 6 dicembre dove l'unica praticamente a rimanere rossa è la nostra vicina Abruzzo mentre tutte le altre da rosse sono passate ad arancioni come vedete anche le Marche più o meno ecco circondata da da regioni dove comunque gli ospedali sono in affanno ma con posti letto disponibili questo è uno dei criteri per cui poi si passa appunto al giallo spostamenti vietati vince la linea dura posti di blocco controlli addirittura con i droni dal cielo migliaia di agenti i carabinieri sorveglieranno le stazioni gli aeroporti le autostrade ma tutto questo fa arrabbiare le regioni per le mancate deroghe e poi da domani zona gialla riaprono i locali sì i ristoratori dicono a dicembre dicembre resterà comunque un mese nero e dire che dicembre invece è stato sempre il mese che ha dato ossigeno anche per l'inizio dell'anno che solitamente arranca un po' si allentano le restrizioni però con il solito limite della chiusura del locale alle ore 18 e con le ulteriori limitazioni per le feste chiaramente non c'è da aspettarsi granché perché la cena no si domandano comunque i ristoratori rispettiamo le regole perché hanno puntato contro la nostra categoria entro gennaio intanto 80 mila vaccini anti covid ricci chiede che sia reso obbligatorio saltamartini annuncia l'arrivo delle dosi nelle marche per sanitarie forze dell'ordine ma il sindaco di pesaro lancia la proposta del patentino 100 casi ogni giorno gli untori sono i parenti la nostra provincia quella di pesaro urbino continua ad avere una positività alta ieri a quota 103 altri tre decessi su nove totali in regione il totale da inizio epidemia di 576 si cerca di alleggerire dell'ospedale Marche Nord con le dimissioni verso altre strutture del territorio come Galantara Macerata Feltre e Fossombrone insomma quello che c'è da sottolineare in questo articolo e lo allarghiamo in modo tale che anche voi possiate leggerlo sul vostro televisore leggiamolo insieme il modo più ricorrente di prendersi il virus è stato frequentare persone care sia familiari conviventi con cui si condivide lo stesso tetto ma io direi anche lo stesso letto oppure fidanzate amici e compagni di giochi un caso su due ha avuto questo tipo di trasmissione ma la forma è per lo più lieve o addirittura senza sintomi una strisciatina invece e dopo due minuti c'è il risultato nell'ambulatorio a pesaro di via branca da qualche giorno è possibile effettuare il tampone rapido richiedendolo al proprio medico quindi se volete fare un tampone rapido che in qualche minuto vi dà il risultato sulla positività o meno potete fare questa richiesta si chiama tampone abbiamo ormai imparato a conoscerlo rapido antigenico se la linea rossa è tutto ok se no vuol dire che sia positivi non si escludono però anche i falsi negativi a differenza di quello molecolare il tampone antigenico è facile facilmente reperibile e garantisce comunque un'affidabilità superiore al 90 per cento l'importante è eseguirlo bene dice daniela cadegiani mentre a fermignano il problema il sindaco feduzzi è piuttosto preoccupato per come sta andando stanno andando le cose a livello di contagio nel suo comune perché all'inizio di novembre erano soltanto 11 i suoi concittadini con la positività oggi in realtà sono già più di 100 130 per l'esattezza e le parole usate dal titolo per il titolo di questo articolo dicono tutto se i contagi non calano avremo tutti il virus prevede in questo momento dice l'1 per cento della popolazione fermignanese è contagiata se continuassimo così a gennaio tutti a fermignano avremmo il virus tutti saremmo positivi questo è il per cui chiede alla regione in qualche modo di fare i test di massa anche i tamponi di massa anche a fermignano intanto la buona notizia abbiamo una buona notizia da darvi questa mattina che è questa Rolando sconfigge il covid lo chef è tornato a casa dopo un mese all'ospedale Rolando Ramoscelli ce l'ha fatta ha sconfitto il covid dopo un mese prima a Pesaro poi a Fossombroni ieri mattina ha potuto far ritorno nella sua casa di San Costanzo è stata una battaglia dura durante la quale non sono mancati momenti di disperazione soprattutto nei primi giorni quando dal San Salvatore si è immediatamente reso necessario il ricovero in terapia intensiva dove è rimasto intumbato per una settimana poi pian piano la situazione è migliorata capalbo mi faccia tornare al lavoro siamo sul sul corriere per il bene di tutti giallo della proposta inviata al dirigente biologo non ho ricevuto nulla Valentini dice sono dipendente mai presentata la domanda di pensionamento poi però è arrivata una notizia come scrive il corriere da Roma dove si è presa la notizia della morte di un altro giornalista un altro giornalista fanese dopo Nestore Morosini il covid ha portato via un altro grande giornalista fanese ieri è giunta la notizia della morte di Angelo Sferrazza venuta in un ospedale romano dove era stato ricoverato il 23 novembre scorso e Sferrazza era entrato nell'organico dei giornalisti della RAI negli anni 60 scrive Massimo Foghetti sul corriere adriatico era stato eletto nel consiglio comunale di Fano in rappresentanza della democrazia cristiana poi dopo è partito per Roma divenne responsabile dell'ufficio esteri della democrazia cristiana presidente dell'associazione nazionale dei partigiani cattolici presidente dell'unione mondiale giovani dc carica qui quest'ultima carica teneva molto e portava avanti un po' come una missione e divenne anche caro amico del presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cronaca andiamo nella zona in una zona pericolosa della nostra provincia almeno stando a quello che dicono i residenti siamo nella strada lungo la Montefeltro dove un centauro è stato trasportato ieri al torrette in ambulanza in ele ambulanza in gravi condizioni i residenti dicono questa è una zona pericolosa quella rotonda è troppo piccola nessuno rallenta va allargata insomma ieri mattina alle 10.30 c'è stato un incidente tra un auto fra due auto anzi e una moto tutti i particolari li troverete sul Corriere di questa mattina poi c'è anche quella la notizia che sul Corriere Adriatico trova spazio con una pagina intera di quel numero il numero che noi già conosciamo il 112 quando uno chiama il 112 fino a ieri insomma fino ancora oggi chiama i carabinieri 113 la polizia 115 vigili del fuoco poi c'è quello per il mare ce ne sono tanti di questi numeri adesso a livello europeo si cerca di sintetizzare unificare di fare un numero unico per le emergenze e questo numero è il 112 e parte proprio da Ancona arriva il numero unico giovedì si parte da Ancona a disposizione ci sarà anche un'app da scaricare sul cellulare che consentirà di localizzare le persone in difficoltà il patto la centrale unica di risposta smisterà anche le chiamate dell'Umbria quindi questa centrale di cui vi abbiamo fatto vedere alcune immagini ieri nel nostro telegiornale questa centrale operativa gestirà le richieste di soccorso che arriveranno al 112 quindi se uno avrà bisogno dei vigili del fuoco non deve ricordarsi qual è il numero dei vigili del fuoco è sempre il 112 qualunque cosa abbia bisogno sempre il 112 anche il 118 sempre 112 anche se ha bisogno di un'ambulanza qualunque cosa che riguardi pioggia, neve, vento, salute eccetera il 112 sarà il numero da contattare poi dopo ci penseranno dalla centrale operativa a smistare le varie telefonate la pagina del Carlino Fano, Fano Pesaro il derby si infuoca e passa dal campo perché domenica si gioca lo scontro quello sportivo al Benelli al Palazzo domani il match sarà solo la punta dell'iceberg di un duello su servizi e sanità mascarina abbiamo salvato il fosso sei ore dall'ospedale per ritrovarci una galleria ferroviaria mentre sull'altra pagina di Fano, questa volta del Corriere buoni spesa a chi ha un reddito basso il comune distribuisce 650 mila euro non conta più l'ISEE ma l'introito familiare a novembre la domanda dal 9 al 16 di dicembre i soldi si riceveranno in 48 ore poi in Duomo messa per la patrona dei vigili del fuoco e marina militare celebrata Santa Barbara il Vesco Forze Unite e poi non rispetta la zona arancione aveva la droga disoccupato con 40 grammi di coca sorpreso al confine tra Mondolfo e San Costanzo serie da guzzi adesso ci sono arrivati per costa e dentro terra servizi uguali sinistra, bene comune e 5 stelle contro l'ospedale unico e Marche Nord no alla clinica privata di Chiaruccia e poi ancora sempre dal quotidiano Mascarin, lavoriamo nell'interesse di Aset è fondamentale che tutti i rappresentanti delle comunità locali si impegnino a mantenerla in mano completamente pubblica la strage di Corinaldo si va verso il processo BIS sicurezza del locale rilascio dei permessi la procura di Ancona ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per 18 indagati e una società quella discoteca era una trappola titolo dalla Corriere processo BIS per la Lanterna Azzurra la procura chiede il rinvio a giudizio per 19 tra proprietari e gestori del locale e colletti bianchi nel mirino le lacune dell'uscita di sicurezza il sovraffollamento e le autorizzazioni intanto ricordiamo che nel primo processo invece sono stati condannati i rapinatori che sparando lo spray e il peperoncino provocarono la fuga e dunque la tragedia da Urbino comune stanza a 400 mila euro per le famiglie quattro tipi di interventi inclusi i buoni per la spesa alimentare che saranno distribuiti direttamente tramite la protezione civile controlli sul coprifuoco la polizia multa ubriachi e anche qualche distratto e poi preso sotto un cervo in superstrada illese la conducente i soccorsi vani un giovane maschio di 100 kg invade la provinciale al furlo cras e stradale sul posto Latini contro l'aborto l'assessore Giorgia Latini nella bufera per la sua posizione legittima a mio parere Latini contro l'aborto la sponda degli alleati con lei Udc Forza Italia e Civici Marche siamo con lei dicono il sostegno il sostegno alla vita bordate dal Movimento 5 Stelle Acquaroli prenda subito posizione il senatore Pilon polemica ingiustificabile Accoto dice vergogna poi Volkestein parliamo di spiagge inaccettabile gettare nel caos chi gestisce gli impianti balneari protesta bipartisan dalle Marche sulla messa in mora dell'Italia da parte dell'Unione Europea Acquaroli dice a difesa del comparto Romagnoli del Sib il governo si faccia sentire il biodigestore altera l'ecosistema invece dicono con inquinamento e rischi della salute dicono in un incontro sul biodigestore dal titolo è proprio necessario parla l'oncologa Gentilini su questo nuovo impianto di Marche Multiservizi nella provincia di Pesurbino e quindi c'è questa puntualizzazione su questi rifiuti trattati con il biodigestore anaerobico che producono materiali pericolosi per l'ecosistema le conseguenze sono inquinamento e ricadute negative sulla salute dell'uomo e questo l'attacco di Patrizia Gentilini componente di spicco dell'associazione Isde Medici per l'ambiente su quest'impianto che dovrebbe essere realizzato a Talacchio da Vallefoglie invece oltre 100 mila euro per i buoni spesa le domande si devono presentare entro il 15 dicembre poi si apre una pista ciclabile tra Montecchio e Bottega dalla Val Metauro condotta idrica rotta siamo al furlo condotta idrica rotta dalle motociclette vedete qui adesso forse dalla fotografia non si vede cercherò di segnarvelo ecco qui c'è uno zampillo vedete uno zampillo d'acqua molto alto due metri che furiesce dalla condotta idrica scoperta dal solco scavato dalle motociclette che passano lungo questo sentiero l'accusa degli ambientalisti nessuna sorveglianza meglio i carabinieri forestali per quanto riguarda invece la pagina della Valle del Cesano da Frontone due comuni rimasti isolati ANAS affida subito i lavori Morani al sindaco di Frontone mercoledì parte l'intervento sui due ponti della 424 le iniziative di Natale il Natale che non ti aspetti c'è e si vede saltate le iniziative tradizionali la manifestazione si trasferisce su Facebook con una serie di idee soprattutto per i più piccoli soprattutto per i bambini poi da Urbino pacchetto di aiuti per le famiglie e le imprese il sindaco Gambini dice superiamo le difficoltà covid il comune replica CGL CISL stanziati 400 mila euro per buoni spese sostegni ad aziende e disoccupati e poi c'è anche il rimborso dell'Atari poi Urbino 2 invece come l'hotel house l'assessore regionale Aguzzi va nel quartiere degradato e dice ora qui è necessaria la riqualificazione edilizia e soprattutto sociale Aguzzi a Urbino 2 il titolo del Carlino di Urbino partirà in recupero l'assessore regionale ha spezionato il quartiere anche con i vertici di Erap i sindaci Gambini e Fabrizioli ora sono più ottimisti Senigallia nasce MOV ospitalità di Velluto un'onda da Cesano Marzocca è un nuovo movimento di bar e ristoranti c'è chi investe in centro storico apre la casa delle erbe mentre si va verso il Natale anche a Senigallia si è acceso ieri pomeriggio in città questo cielo l'albero con il tuner per i selfie riconfermato il cielo stellato di Piazza Garibaldi ma non il costoso videomapping comunque è sempre un bel vedere il Covid sempre da Senigallia la pagina del Carlino mette in vendita hotel e stabilimenti la crisi per la pandemia ha costretto i proprietari a cedere da 1 a 2 milioni per gli alberghi mentre da 450 mila a 800 mila per gli chalet siamo sempre sulla pagina di Senigallia il virus si prende il conte Cicconi fu prigioniero durante la guerra si è spento all'ospedale di Senigallia a 94 anni fu rinchiuso nel campo di concentramento di Coltano e adesso andiamo a vedere lo sport perché come dicevamo all'inizio della nostra segna stampa c'è questo derby questo derby come sempre molto appassionante che è il derby tra Fano e Pesero o Pesero-Fano più di un secolo di sfide titolo del Corriere e tanta fama arretrata la Vis-Pesero ha vinto meno derby del Fano 24 contro i 37 del Fano e vuole risalire la china i biancorossi hanno bisogno di punti anche per tirarsi fuori dalla zona calda e questa partita chiaramente che non si potrà vedere dal vivo allo stadio si potrà vedere invece su Eleven Sport che è un sito internet che trasmette le partite anche del Fano così come del Pesero intanto della Vis i tifosi stiano tranquilli vedremo venderemo cara la pelle il capitano del Fano Carpani parla del derby di domani a Pesero e dice noi siamo assolutamente carichi ci aspetta un vero tour de force ma adesso pensiamo solo alla Vis Fano Vis dal Carlino più che di gloria c'è fame di punti squadre allo specchio entrambi hanno segnato solo 5 gol su azione Granata pericolosi di piede e pesaresi invece su palle inattive vincessero tutte e due il derby secondo Becchetti passaggio smarcamento gol nulla è cambiata poi nulla è cambiato poi dalla fronte fanese Alma ce la faremo questa è la promessa di Carpani ai tifosi VL siamo pronti a ripartire coach Repegia fiducioso per la Carpegna Prosciutto che domani sfida la De Longhi Treviso sono contento per la Serie A con Belinelli ma perdere Roma sarebbe un colpo enorme e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie come sempre per averci seguito l'informazione torna questa sera alle 20.30 con 7 per occhio il magazine con tutte le notizie della settimana e gli aggiornamenti se ce ne fossero e poi la rassegna che torna lunedì mattina come sempre alle 7 a voi tutti grazie per averci seguito e l'augurio di trascorrere un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti